I parti in ambulanza sono sempre più frequenti e per quanto ogni notizia di questo tipo costituisca una gioia infinita per la famiglia e la comunità bisogna solo ringraziare i sanitari per la professionalità con cui operano. Allo stesso tempo resta inaccettabile che tutto ciò lo si continui a consentire. A parlare è il consigliere regionale della Lega Joseph Splendido e il suo riferimento è alla nascita in ambulanza nei giorni scorsi di un'altra bambina. L'ennesimo episodio che lo ha spinto a depositare un'interrogazione all'assessore alla sanità della Puglia Rocco Palese. Un'interrogazione che mira a ripristinare il diritto della comunità a ricevere un'offerta assistenziale degna di questo nome. Argomenta Splendido che dichiara anche di unirsi all'appello fatto da altri rappresentanti istituzionali del centro-destra per la riattivazione presso l'ospedale San Camillo dell'Ellis di Manfredonia del reparto di ginecologia ed ostetricia, struttura che un tempo era riferimento cruciale per le nascite ma che ha subito nel tempo il colpo di mannaia del piano di rientro regionale prima e della soppressione del punto nascita poi. L'esito, Chiosa Splendido, è stato il venir meno dei parametri minimi assistenziali. Di qui la formalizzazione di un nuovo appello a Regione Puglia e Aslafoggia a riconsiderare la necessità di alcuni servizi che restano imprescindibili per la comunità.